E' cominciato con il piccolo negozio, tanti amici ti venivano a trovare perché eri bravo, perché eri capace ad ascoltare e adesso siamo arrivati su uno dei negozi più belli di questa regione, davvero bello, 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 però è rimasto sempre Matteo Donati come era una volta. Allora sì, assolutamente sì, io cerco di fare del mio meglio, chiaramente per cercare di soddisfare le esigenze dei nostri clienti che sono e arrivano come giustamente, grazie per il tuo encomio, come giustamente hai detto Giampiero, ho bisogno di persone che ci diano un supporto, che ci diano una mano, di alcuni collaboratori come appunto Mattia che tra l'altro conoscete per anche le gesta sportive e di altri ragazzi che ci danno una mano sia per quanto riguarda l'officina sia per quanto riguarda appunto vendita e amministrazione. Quindi lo staff si è ampliato, c'è Luca per quanto concerne la biomeccanica. mi fa piacere che ti sei soffermato su quello che è più la persona, più le persone, più lo staff rispetto poi a tutto il resto che alla fine altrimenti rieschia di essere solo un contenitore di oggetti che altrimenti sarebbero privi invece di contenuto. Quello che noi invece vorremmo e che cerchiamo sempre, la nostra mission è quella di dare un servizio che arricchisca la bicicletta con la bicicletta o la giacca per andare in bici, il casco, l'occhiale, l'arricchisca di contenuti, l'arricchisca di conoscenza, di esperienza con appunto Luca, il nostro biomeccanico, l'arricchisca con una conoscenza che permette appunto di avere una messa in sella ideale e per cui ecco quello su cui puntiamo è appunto un servizio di primo livello. In effetti la bicicletta se uno vuole la compra tramite il mercato di internet e web, compra gli accessori, poi in verità cerca il consiglio, cerca quello che è la condivisione della passione, il comparare quello che possono essere gli accessori, cerca questo il ciclista insomma, no? Sì, esatto, il ciclista cerca di andare oltre, il ciclista più esperto, ma anche quello che si affaccia per le prime volte a questo mondo, in questo mondo, cerca di avere quel qualcosa in più che riesca, come dire, a fare la differenza e ad aiutarlo appunto a scegliere il prodotto più giusto e più indicato per le proprie esperienze e per il proprio divertimento, perché poi questo è. Ho visto una persona entrare dicendo ho solamente due ruote e voglio fare la bicicletta e tu in una mattinata ti hai costruito la bicicletta. Sì, capita anche questo e sono i clienti che alla fine danno più soddisfazione perché il cliente che hai visto è un cliente, una vecchia conoscenza che aveva abbandonato questo mondo qualche tempo fa, il mondo del ciclismo, e adesso è rientrato, lui si era tenuto solo le ruote e quindi dice bene, vorrei ripartire, riparto dalle mie ruote, mettimi tutto quello che manca e questo, ripeto, dà soddisfazione perché comunque vuol dire intanto fiducia, vuol dire che appunto questo cliente si era trovato bene con noi e che nella massima fiducia dice bene, costruiscimi tu la bicicletta, io mi fido, fammi vedere quello che possiamo fare e poi ripartiamo e pedaliamo. Il mondo dell'elettrico ha stravolto il mondo della muscolare? Il mondo dell'elettrico è stato un bello sconvolgimento, non sono il primo chiaramente ad accorgermene, è l'unico, ormai non è neanche più una novità, ormai è la normalità e questa mattina hai visto Gian Piero quanti capitano che chiedono, comunque si informano per l'elettrico, è un tipo di ciclista diverso, è un tipo di cliente diverso, è un cliente meno esperto da un punto di vista delle conoscenze, appunto quelle ciclistiche, quelle normali che uno in genere è abituato ad affrontare, è abituato a trovare delle situazioni in cui il cliente è già bene informato. Non c'è dei 20 grammi in meno? Generalmente esatto, non si parla di pesi, non si parla di grammi, ma si parla di esigenze appunto che cambiano e anche in questo ambito è molto importante appunto ascoltare, capire bene chi si ha di fronte, le necessità della persona che si ha di fronte, perché può capitare il signore che non ha mai pedalato e che vuole semplicemente andare a fare delle scampagnate con il figlio o con gli amici senza faticare tantissimo, ma puoi trovare anche l'ex endurista che venendo dalla moto ha conoscenze importanti in termini di ammortizzatori, in termini di carri e quindi di sospensioni, ma non conosce il mondo della bicicletta e quindi vuole capire fin dove si può spingere, perché qui non c'è benzina, non c'è motore, ma ci sono le proprie gambe aiutate da una batteria, da un motore appunto elettrico che per ora si fa spingere molto lontano, ma non ovunque insomma.